Io sto con Teleton parte anche a Sciacca la maratona Teleton finalizzata a raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L'iniziativa promossa da AICE, Associazione Italiana Cooking Eventi e Food Senza Glutine, in collaborazione con l'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare di Mazzara del Vallo, si svolgerà sabato 22 dicembre in via Arcipretevento in Contrada Ferraro a partire dalle 15.30 fino alle 21.30. Il nostro progetto legato alla celiachia e di conseguenza legato al sociale ha fatto sì che dietro l'accredito di Teleton, su nostra iniziativa, stiamo organizzando un evento in concomitanza con la programmazione in RAI di Teleton per la raccolta, per la ricerca delle malattie rare, attraverso AICE che è l'Associazione Italiana Cooking Eventi di cui ne sono il fondatore e il presidente e in collaborazione con Food Senza Glutine e Franchising di cui ne sono il titolare del marchio. Come si articolerà la giornata? La giornata si articolerà in un pomeriggio di sabato dalle 15.30 alle 21.30 con i nostri chef di riferimento della città di Sciacca, Giovanni Montemaggiore, già presente in diverse nostre collaborazioni con l'Istituto Alberghiero Caloggio Ramato, e Gianluca Interrante, oggi Executive Chef in Manchester nel nord-Inkland. Naturalmente è una giornata che servirà per raccogliere fondi che saranno poi destinati a Teleton. L'obiettivo è la raccolta dei fondi con la presentazione e l'offerta di un piatto senza glutine di pasta fresca stabilizzata a Farabella, abbinata a un succo d'arancia che è il succo della vita e a un bicchiere di vino. Ognuno di voi può liberamente offrire quello che è il prezzo simbolico di 5 euro, diversamente un'offerta libera che andrà devoluta nella mia persona a Teleton per sostenere quella che è la ricerca delle malattie rare. A presentare la manifestazione sarà la giornalista Rosi Abruzzo. Sarà una giornata, io credo, veramente bella e intensa, intanto perché c'è la possibilità di contribuire a questo importante evento e questa raccolta fondi massiva che è portata avanti da Teleton ormai da 29 anni. Questa infatti è la 29esima edizione in cui la Fondazione Teleton raccoglierà dei fondi proprio per la ricerca scientifica attinente alle malattie genetiche rare. Noi l'abbiamo pensata insieme a Calogero di Liberto, che ringrazio tantissimo per avermi coinvolto in questo importante evento, l'abbiamo pensata come un momento dinamico in cui sensibilizzare le persone al concetto del benessere che passa anche attraverso il cibo. Quindi sarà proposto tutto questo cibo gluten free proprio per chi soffre del problema della celiachia che certamente non è una malattia genetica rara ma sicuramente ci induce ad affinare questo concetto di socialità attinente collegato alla questione del benessere. Quindi una serie di piatti e di pietanze tipiche realizzate con i nostri migliori chef e fatte tutte a base di prodotti gluten free nel contesto di una maratona che sarà comunque dinamica perché sarà intervallata anche da testimonianze, momenti di confronto, interviste. Quindi noi invitiamo tutti quanti ad essere presenti perché la presenza sarà un gesto di cuore.